Sono iniziate oggi le operazioni di rimozione dei binari della metropolitana di superficie mainata in via della Comunità Europea, nel quartiere di Pettino. Nel mese di novembre sono già iniziate le operazioni di demolizione delle fermate rialzate, rimozione delle pensiline, dei cavi aeree e dei pali, proseguite nonostante le condizioni meteo avverse che hanno caratterizzato la città. Via della Comunità Europea è la prima via interessata da lavori, poi si passerà oltre, miamiternum e prima dell'estate in queste vie si potrebbe finire. Poi grazie agli ulteriori soldi che arriveranno dalla regione, 400.000 euro, si andrà su altre vie. All'inizio delle operazioni presenti l'assessore alle opere pubbliche Vito Colonna e il sindaco Pierluigi Biondi. Dopo la rimozione dei binari ci sarà la ripavimentazione, poi la pose del nuovo asfalto sulla strada. Abbiamo iniziato consegnando il cantiere alla ditta i primi di novembre dell'anno scorso. Abbiamo iniziato con via della Comunità Europea, proseguiremo con via miternum, poi appena arriveranno i soldi della regione, perché c'è stato uno stanziamento grazie al governatore Marsigli di 400.000 euro, continueremo con Leonardo da Vinci e poi ci siamo impegnati con il signor sindaco di trovare i fondi necessari per terminare l'opera con la rimozione di via Piccinini e via Alessandro Manzoni. Penso che prima della fine del 2022 la città verrà riconsegnata questo tracciato che era abbandonato da troppo tempo. Sì, è un giorno molto importante perché finalmente si inizia a rimuovere questi binari che oltre a rappresentare un esempio di opera incompiuta che ha segnato la storia di questa città erano anche molto pericolosi, soprattutto per la mobilità ciclistica. Abbiamo messo ingenti risorse per fare questa operazione, consapevoli che si tratta di un'arteria fondamentale per questa zona della città e non soltanto perché qui ci sono intorno delle funzioni fondamentali e finalmente ci siamo, credo che sia un giorno importante per la città dell'Aquila perché ad una promessa fatta corrisponde un dato certo e concreto di intervento. L'intervento di rimozione dei binari costerà in totale 700.000 euro più altri fondi regionali, un lavoro atteso dalla popolazione. Non si contano gli incidenti con macchine e bici a caso dei binari, 50 già sono stati indennizzati. La rimozione dei binari mette la parola fine definitivamente alla storia di quest'opera mai nata, partorita l'idea ai tempi dell'aggiunta di centrodestra guidata dal sindaco Biaggio Tempesta a fine anni 90. Sono 3,2 chilometri in totale i binari da smantellare. Il Comune però non rinuncia del tutto alla metro, nel senso che nel piano urbano della mobilità sostenibile, approvato in consiglio da qualche giorno, c'è il progetto del Metrobus, che attraverso una linea elettrica con dei bus collegherebbe l'ospedale con il terminal di Colle Maggio senza passare per il centro.